Eeeh what's up a tutti ciurme e benvenuti da Gigerini in questo nuovissimo episodio su Grease Vediamo ragazzi di riuscire a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video Ricordatevi ragazzi che il vostro supporto con i mi piace è assolutamente importante A farmi capire quanto siate ancora interessati alle varie serie Per cui mi raccomando ragazzi se ci tenete a continuare a guardare altri episodi Lasciate un bel pollice in su Per cui che dire la volta scorsa eravamo riusciti ad acquisire un nuovo incredibile potere Sarebbe a dire ragazzi quello di poter nuotare E questa cosa mi aveva lasciata particolarmente sorpresa Perché avevo immaginato che i nostri poteri non si sarebbero fermati solamente a quelli che avevamo già acquisito Ma che avremmo acquisito noi cose Però non credevo che ci avrebbero portato anche in un mondo Sottomarino Per cui quello che adesso dobbiamo cercare di fare ragazzi è di raccogliere altri 4 luci Per cui appunto la volta scorsa mi ero diretta di qua E quindi vediamo un pochettino dove tutto questo ci porta Come possiamo vedere possiamo darci anche ragazzi un certo slancio Quando siamo sott'acqua darci una certa spinta Ok solo che qua sopra non arriviamo da nessuna parte Per lo meno ci ho provato e non sono riuscita ad arrivare da nessuna parte Per cui andiamo di qua ed eccoci qua infatti Qui c'è un luci che già ci sta attendendo Tra l'altro Ah solo che non possiamo passare qua giustamente Visto che c'è sta il muro Quindi andiamo su Eeeeh Opla Ooooooh Cioè raga Come sempre mi ripeto è una continua sorpresa Io non mi ero assolutamente accorta che questa parte Fosse immersa nell'acqua Quindi come potete vedere possiamo darci una spinta Da dentro l'acqua magari per poter arrivare di qua Per cui vediamo un po' qui Non possiamo fare assolutamente nulla E ok Possiamo arrivare di qua però E va bene Solo che io mi sto ancora chiedendo Come possiamo raccogliere quei luci Ragazzi Ok qua ci stanno le farfalline Che ci aspettano Solo che ci dobbiamo dare lo slancio giusto Per poterle raggiungere Per cui non sarà facile come sembra Ok si invece Ecco qua Perfetto Eeeeh Eeeeh Come famo di qua ragazzi Ah ok Semplicemente così dandoci un po' più di spinta Perfetto Per cui Wow Nuotiamo Nuotiamo Verso Eccolo qua ragazzi Abbiamo perso Perso E ciao Abbiamo preso Il terzo luci Per cui ce ne mancano ancora Tre Perché ne dovevamo appunto raccogliere Quattro Per cui torniamo di sopra Usciamo di qua Yuhuu Eeeeh Vai Perfetto Allora io qua penso di aver finito Credo Per cui Immergiamoci di nuovo Sicuramente ci saranno Altre zone in cui poter andare Che ovviamente io non ho ancora visto Per cui io ci riprovo ragazzi Eeeh A ridarmi un po' di spinta non niente da fare Va bene dai non è abbastanza Per cui torniamo di qua Eeeh Eeeh Stavolta andiamo Qua sotto Magari qua sotto c'è qualcosa E mi sono persa Si Possiamo dirigerci anche Da questa parte Per cui Per cui Per cui Per cui Ok qua sopra Non c'è niente Andiamo ancora più in basso In mezzo a questi colori Assolutamente Meravigliosi Ed eccolo là Allora lì Ci attende un altro Lucci ragazzi Però vediamo un attimo Qua sotto Cosa c'è Oh Oh mi seguono Mi seguono Quindi posso usarle Yuhuu Mi seguono Dove sono andate Ah si sono riformate qua sotto Mmm Per cui Oh Qua non passiamo Ragazzi c'è questa specie di corallo Che ci blocca la strada E qua l'albero Anche ci blocca la strada Per cui in qualche modo Dovremmo sfruttare Le nostre amiche farfalle Vediamo un pochettino Come Però una volta che usciamo Ragazzi le farfalle Spariscono Non so se abbiamo notato Vediamo un po' Oh Ah ok posso usarle Perfetto una volta Sbucati fuori dall'acqua Ragazzi posso usare Usarle per darmi Lo slancio In aria Per cui L'albero Racchiude all'interno Oh no 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 Aspettate All'interno della sua corteccia Il lucci che ci serve Hop Siamo caduti All'altro lato E quindi qualcos'altro Dovremmo poter fare Di qua Che cosa però Per la precisione Entrare All'interno Ah Oh Oh Tanto comunque le farfalle Spariranno ragazzi Una volta che usciremo Da qui Per cui Torniamo indietro Vediamo Che altre zone Possiamo riuscire A raggiungere Con la nostra blu A forma Di manta O non lo so Se è tanto una manta O che cosa Vediamo Andiamo ancora più Ragazzi Nelle profondità No No È tornata Automaticamente Su ragazzi Quindi più In profondità Di così Non possiamo Andare Sarebbe stato Interessante Comunque Poter esplorare Anche di più Gli abissi Però dai Ci accontentiamo Ci accontentiamo Di quel che abbiamo E mi sto Chiedendo Allora Dove diamine Devo trovare Gli altri due luci Allora Di qua per ora Non possiamo passare Per cui dovremmo Trovare una strada Dall'altra parte Qua ci sono stata No C'è un collezionabile Non mi sembra Di esserci stata La volta scorsa Non credo Ragazzi Comunque Per cui Allora Qua senza farfalle Non arriviamo Assolutamente Da nessuna parte Per cui proviamo Ad immergerci Di qua Wow Ok C'è uno stesso Oddio Ste cuffie Oggi Mi stanno facendo Impazzire Ok C'è lo stesso Identico Edificio Immerso Però E che possiamo dire Solo non distingo Tanto la figura Di Allora Aspettate Qua però Non passiamo Qua non passiamo E qua sotto Nemmeno Ocean Man Ocean Man Non posso Non posso passare Non posso passare Manco di sotto A parte che Comunque Qui non è che si vede Molto Nitidamente Blu Però non possiamo Passare Ok Oh Però Sono passata Qua sotto Ragazzi Non ero sicura Di poter passare Viste le colonne Però A quanto pare C'è stato possibile Andare dall'altra parte Per cui vediamo Se di qua Almeno riusciamo A combinare qualcosa Ma c'ho i miei forti dubbi Perché anche Oh Ok Ragazzi Non mi è molto chiara Sta cosa Del perché Visto che qua c'è la colonna Non possiamo passare Mentre di qua Si Però Va bene Dai Va bene Lo stesso Diciamo De si Mi ha lasciato un po' Perplessa la cosa Si tratta comunque Forse Del fatto ragazzi Di esplorare Di esplorare Il più possibile Fare comunque Attenzione ai dettagli Però Dai Diciamo Che ce la facciamo Andare bene Anche sta cosa Il collezionabile Ragazzi Temo Che rimarrà qui Comunque Fatto sta Che Appunto Dovremo Trovare Un'altra strada Ancora Perché ce ne manca Ancora uno Per cui qua La questione È chiusa Per ora Ed era chiarissima Sta cosa Di qua Possiamo andare E possiamo Sbucare Da qua Sopra Cosa Io non capisco A cosa ci serve Non credo Ci serva Qualcosa A meno Mi sta Mi sta Sfuggendo Qualche Altro Dettaglio Cosa Molto Probabile Se faccio Così Tipo Pensavo di poter Arrivare Ragazzi Ancora più A fondo Col Col Potere Del Del mio Masso Credo Di stare Prendendo Un granchio Ragazzi Assolutamente Perché fino in fondo Non ci arriva No Quindi niente Da fare Proviamo a vedere Di qua Qua sotto Se c'è qualcosa Ma Andiamo negli abissi Ragazzi Quindi temo Che ci riporterà Su Infatti Quindi C'è qualche Via Qua intorno Che comunque Mi è sfuggita Per cui Proviamo ad andare Di qua Vediamo un po' Dove ci porta Questa meravigliosa Strada Illuminata Ok Qua sopra Da nessuna parte Perfetto Mentre di qua Hop E hop E Oh Eccolo qua Eccolo qua Già beccato Oh Dovai Dove vai Ah sto cadendo Oh Ma Credo di aver capito Cosa devo fare Aspettate Per poterlo battere In velocità Abbiamo Soltanto Un modo E stavolta Non mi farò fregare Eeeee Oh Dai muovite Blu Mannaggia la miseria Ho avuto un tempismo Un po' di merda Però credo che Il metodo Per raggiungerlo Sia Sì Sì però Se ci metto Trent'anni Cioè il metodo Deve essere Quello ragazzi Solo che Devo essere Un po' più Rapida Eccolo qua Sì Ok Si trattava soltanto Di avere un po' più Di Di rapidità Oh Oh Cosa è successo Qui ho sentito Un rumore Allucinante Ma che cazzo You Wey Da vai Vieni qua Seguiamolo Ti riacchiapperò Come ho fatto Con tuo fratello Non Non credere Di potermi sfuggire Chissà perché ragazzi Ah E' scomparsa Ma perché E' sparita Non so Vabbè Non so se avrei Insomma Forse avrei dovuto Riacchiapparla Più rapidamente Fatto sta che abbiamo Completato La Seguiamola Che meraviglia Ragazzi Ma un colore Meraviglioso I colori E le forme Ragazzi Che hanno dato Alle creature E agli oggetti Sono incredibili Da notare Che ci stiamo Immergendo Negli abissi In cui poco fa Non abbiamo potuto Immergerci Ragazzi Per cui Il tutto è ancora Più interessante Stiamo Come se stessimo Sprofondando Visto ragazzi Che avevamo detto Che il blu E' il colore Della tristezza Io credo Di aver capito Che comunque I colori In questo gioco Rappresentano Delle emozioni Quindi ci abbiamo Avuto il colore Rosso Che probabilmente Poteva essere Il colore Della rabbia C'erano delle statue Che raffiguravano Una donna disperata Magari arrabbiata Dopodiché Subentrato Il colore verde Se è uno sbaglio Che non so sinceramente Cosa può stare a significare E Ora come ora Ragazzi Siamo nella fase Del colore Blu E da notare Che adesso Stiamo sprofondando Io penso Che queste Siano tutte Metafore Negli abissi Del blu Quindi Negli abissi Della nostra Tristezza Almeno credo Che questo Significhi Per cui Continuiamo Si è fermata Perché ti fermi Ok Ci ha guidati Praticamente Fino a qua Infatti ragazzi Qui il blu È assolutamente Il colore Primario In questi momenti E quindi È un significato Stiamo sprofondando Negli abissi Della nostra Tristezza Siamo scivolati Ragazzi Di nuovo Non so Se avete notato Era la testa Di un'altra Statua Raffigurante Sempre Una donna Solo che In questo caso Non c'è stato Possibile Notare Quale fosse La sua Espressione La sua Posizione Quindi Continuiamo Ad immergerci Ancora di più Perché ragazzi La fase prima Che abbiamo vissuto Era un continuo A scendere C'è stata la rondine Che era arrabbiata Che gridava Che ci ha portati Era a scendere Sempre di più Quindi come se fosse Un crescendo Di emozioni Quindi un crescendo Di rabbia Direi Fondamentalmente Quindi adesso Stiamo invece Sprofondando Ragazzi Negli abissi Più profondi Della tristezza È Una Assoluta Meravigliosa Rappresentazione Credo Delle Emozioni In questo caso Delle emozioni Vissute Da questa donna Probabilmente Qui c'è il piede Ragazzi Della statua Su cui siamo Appena scivolati È meraviglioso Quindi questa donna Immersa Totalmente Nella sua tristezza Ciao amore Ok ragazzi Scusate l'interruzione Sono qui Per Ricominciare Eccoci ragazzi Allora Siamo qui E probabilmente Dovremmo Sì Trovare il modo Per Ecco Siamo All'interno Della statua Attenzione Io credo Che ragazzi Ogni immagine Che guardiamo In questo gioco Sia Un simbolo Ovviamente Per cui è meravigliosa Questa cosa Io vorrei vedere L'espressione Sono davvero curiosa Di vedere L'espressione Della statua E credo Che qua Possiamo Fare così Una nuova fase Una nuova fase L'espressione Oddio Non di nuovo Oh 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 Stiamo scappando Ragazzi Oh Di nuovo Lei Di nuovo La rondine Via Oh Ci sta Per raggiungere Oh Si è trasformato Oddio Che figata Una morena Ragazzi Oh Via Ma dai Cioè no raga Ma cos'è sto gioco Ma cos'è Ma cosa Cazzarola È Questo gioco Cioè ragazzi La scena A cui abbiamo assistito Un attimo Un attimo Fa è stata Una delle scene Più poetiche Meravigliose Che io abbia mai Visto In un videogame Trovo che tutto Questo sia così Bello Da essere Indescrivibile A parole Ormai No ragazzi Allora Parliamone C'è stata Blu Ragazzi E non so perché diventa Tutto incredibilmente Buio ma adesso Le meduse Faranno in modo Che ci sia luce Di nuovo Cioè la scena Cioè la scena ragazzi In cui Blu Sulla mano Della statua Ha Liberato Migliaia Di stelle Fino a formare La luna Ovviamente Avrà un significato Nascosto Che purtroppo Io non credo Di essere riuscita A cogliere A capire Anche se Io ho interpretato Le stelle Come lacrime Sinceramente Quindi magari Potrebbe essere Che l'abisso Della tristezza Ti porta a versare Ovviamente Tante lacrime Però sicuramente Questa è una mia Interpretazione Personale Probabilmente L'ho sbagliata Ma è stato Di una bellezza Unica Ragazzi Io non so più Come Come esprimere La meraviglia Che provo Ogni volta Che guardo Qualcosa Di questo gioco Non so più Come esprimerla Perché A volte Di fronte A troppa bellezza Non si può Che rimanere Muti E senza parole E questo gioco Ci sta riuscendo Alla grande Poi c'è stata Sta fase Della rondine Che ovviamente Ci ha seguiti In acqua E assunto Le sembianze Esatte Per poterci Inseguire Anche in acqua Quindi credo Che la rondine Fondamentalmente E l'animale Insomma In questo caso La morena Rappresentino La disperazione Magari O Lo sconforto Più totale Perché una figura Nera Che abbiamo visto Ragazzi Ad un certo punto C'è anche Racchiuso All'interno Di una palla Nera E quindi Io lo interpreto Come la disperazione Come lo sconforto Come magari La depressione Potrebbe anche essere Se vogliamo parlare Proprio più in termini Medici Diciamo così Ma credo sia Lo sconforto Che ci segue In questo caso Segue blu Ovunque E la vada Sia negli sconfinati Spazi dell'aria Sia Nelle più abissali Profondità Dell'acqua Incredibile Tutto questo Ok Sembrerebbe Che siamo riusciti A liberarci Della murena Almeno per ora Le meduse Ragazzi Queste piante Luminescenti Ci mostrano La via E Siamo nell'abisso Ragazzi Nell'oscurità Nel nero Più nero E profondo Che ci possa essere E credo che anche questo Ovviamente Ragazzi Abbia il suo significato Perché magari La profondità Della tristezza Può Buttarci Ancora più In profondità Quindi nella profondità E nel nero Della disperazione Più totale Non so più Cosa dire Se non Ripetermi Ragazzi Non posso fare altro Che ripetermi Ve lo sto dicendo Dal primo episodio Che abbiamo Giocato su Gris E ormai Io credo Che rimarrò Senza parole Magari Di fronte a A quello Che vedrò Perché Non ci resta Che questo Ragazzi Che rimanere Senza parole Intanto stiamo Continuando A vagare A volte Nell'oscurità A volte Con qualche Piccola luce Che ci guida Nel nostro Cammino Credo che anche Questo sia Metaforico Ragazzi Come Lo è ovviamente Qualsiasi elemento Di questo gioco Per cui Continuiamo a seguire La via Lo penso Davvero Ragazzi Cioè Lo posso dire Ancora prima Di finire Il gioco Che questo Porca Porca Vacca Come non me L'aspettavo Che bastardi Ci hanno Fatto Tranquillizzare Per un po' Ci sta Per prendere Oh merda Cioè No La poesia Anche di queste Scene Ragazzi I movimenti Della murena I movimenti Di blu Sono tutti Pura Poesia Non mi avrai Accidenti Non mi avrai Accidenti Non mi avrai Alla fine Riuscirò A emergere Vedrai Via Blu No Non mi avrai 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 a 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 Ciao ragazzi, sono comezza? Stavo per dirlo l'attimo prima che la morena rispuntasse ragazzi, che posso dire dopo questo con ancora maggior convinzione e ancora prima di finire ragazzi la serie su questo gioco, che questo è uno dei giochi più belli che io abbia mai giocato in tutta la mia vita, non solo sul canale, in tutta la mia vita. E lo posso dire ragazzi con tutta la convinzione del mondo perché come si possono commentare scene del genere, tipo quella a cui abbiamo appena assistito ragazzi, è impossibile. Attenzione. Ok, c'è tipo un mondo... Oh abbiamo recuperato tutti i nostri luci! Ok raga, allora mi ho appena salvato la partita. Sono emotivamente sconvolta ma ovviamente positivamente parlando ragazzi. Perché... Come vi ho appena detto... Io penso di aver incontrato così tanta poesia, parliamo ragazzi, quindi non di bellezza del gioco di per sé, ma di aver incontrato così tanta poesia in un gioco solo penso al massimo altre due o tre volte nella mia vita. E parlo di poesia, ribadiamo, non di quanto sia bello il gioco eccetera. A parte che questo gioco oltre ad essere di una poesia assolutamente unica è anche meraviglioso da tutti gli altri punti di vista. Scusate ragazzi, rimango incantata da questa musica e... Non so più come esprimere ragazzi, la mia meraviglia. È meraviglioso, anche perché credo che sia una grossa metafora che raffiguro un viaggio ragazzi. Un viaggio emotivo, un viaggio all'interno delle nostre emozioni. Probabilmente emozioni legate ad un qualche evento, probabilmente traumatico e tragico, in questo caso della vita della nostra protagonista. E quindi ha ancora più valore ragazzi, perché sono riusciti a essere incredibili nella rappresentazione di questo viaggio in una maniera così onirica, poetica, non rendendolo per niente scontato. Perché ovviamente ragazzi, videogames che affrontano queste tematiche ce ne sono. Ma io credo, perlomeno per la mia esperienza videoludica, che nessun altro gioco ragazzi riesca ad eguagliare il modo meraviglioso in cui questo gioco affronti questa tematica. Anche perché a maggior ragione, essendo proprio così metaforico, sta proprio al videogiocatore riuscire ad interpretare tutto quello che vede. Questo può essere anche, come avevamo detto, un aspetto negativo, perché magari puoi non riuscire a comprendere tutto quello che vedi, ma il gioco in qualche modo ti aiuta a volte e quindi non è troppo enigmatico ragazzi, non è troppo indecifrabile. Quindi ti richiede uno sforzo a livello emotivo e di sensibilità per riuscire a capirlo. E quindi a maggior ragione, credo che questo gioco abbia un valore inestimabile. Ragazzi, sono così contenta, cioè raga, veramente lo sento qui dentro, così contenta di stare portando questo gioco e di poterlo giocare e di poterlo giocare assieme a voi. Sono veramente molto orgogliosa, veramente. Non ringrazio mai abbastanza a Rodrigo per averlo scoperto. Quindi vabbè, io vi chiedo scusa ragazzi se mi perdo in queste risertazioni, ma credo che di fronte a tutto ciò sia comunque fondamentale riflettere e scambiarsi pensieri su quello che si gioca. È importante. Quindi questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Obdoscio a tutti ragazzi da Giocherino. Ciao. Grazie a tutti.